Quartetti d'archi, sonate e canzoni. Allora, prima dell'intervento del Presidente della Repubblica, che concluderà questa cerimonia, ascolteremo una romanza da salotto pubblicata nel 1836, La Conocchia. La interpreta nel suo brano Laura Uyor e al pianoforte il maestro Danilo Reachi. La Conocchia La Conocchia La Conocchia Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info